Musica 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 Il studiareggio dovessi essere cercato di ricostruire un'alleanza con il signor Consciente? Musica Io penso che gli elettori sono molto più maturi e avanzati spesso dei gruppi dirigenti Io sono contento che in questa stagione il Partito Democratico è un partito come mai unito negli ultimi dieci anni e come mai unitario nei territori ovunque cerchiamo di aggregare il più possibile e questo io penso sia quello che vuole la gente questa parte d'Italia si è stufata di perdere le elezioni per le divisioni anche perché quando governiamo e lo abbiamo visto sui miliardi che stanno arrivando del recovery fund si dimostra che avevamo ragione noi e non la destra però la scelta di un commissariamento divide sempre a prescindere nelle famiglie se ci mettiamo a separarci Casomai è veramente l'opposto la scelta del commissariamento se non parte da una divisione ha come obiettivo quello di unire grazie 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 reggini grazie Grazie per la visione!